Grazie a tutti. Grazie a tutti. La palla di Goss, tira da quasi metà campo, Goss segna. Ok, fa la rimessa subito, fa la rimessa subito. Savrinovic pinta il tiro, attacca in post, torna fuori da Della Valle, contro Ress, lo attacca, lo batte fino in fondo, stoppata di Ress. Ovviamente Cincarini aspetta l'ultimo secondo, due minuti adesso, dieci per la zona reggiana, Cincarini contro Ress, sei secondi, lo attacca, si separa, tiro difficilissimo. Va segnato da Cincarini, più sette.